Senti un attimo Maria, allora cosa molto importante, io ti ho fatto venire perché voglio portare un pezzo di Napoli ad Anzio. Io adesso sono diventato mezzo napoletano perché sto assaporando tutti i sapori, la cultura, quindi ho deciso di portare la pizza ad Anzio, ma quella napoletana. Con degli ingredienti particolari, delle cose pazzesche e chi mi poteva aiutare? La regina della pizza napoletana, Maria. Mi servono degli ingredienti speciali perché non è che posso fare la margherita, eh no, ok? Capito? Sarà fatto. Solo tu, Maria, mi puoi aiutare qua. Sarà fatto, Federico. Grazie, Maria. Grazie a te.